Buonasera, la vista di qui è molto bella, la sala pienissima, inauguriamo la nostra stagione di conferenze per iniziare una nuova stagione. Abbiamo avuto un'apertura, un antipasto, sai corposo con la messa da Requiem e la stagione d'opera inaugura adesso con l'Otello di Verdi. Credo molti di voi ricorderanno l'ultima edizione fatta qui nel 97, quindi 17 anni fa ed era un'edizione straordinaria per la venuta qui di Claudio Abbado con i Berliner Fiedarmoniker. Un nuovo allestimento che vede l'esordio di un giovane regista, Walter Satgriff, già assistente di McVicar e altre grandi firme del teatro di area inglese e molto attivo anche in Germania, quindi un approccio molto teatrale e di regia da teatro di prosa, un regista che è cresciuto a Shakespeare e opera. Dirige Gian Andrea Noseda che è ovviamente in qualità di direttore musicale e appunto dirige l'opera inaugurale e abbiamo come protagonista Gregori Kunde che interprete di come dire arriva da un repertorio belcantistico rossiniano e a partire da anni recenti e tra le prime sue cose in questo senso i Vespe siciliani fatti qui si è volto anche a repertorio diciamo secondo ottocentesco quindi un repertorio verdiano ed è l'unico cantante credo che abbia in repertorio l'Otello di Rossini e l'Otello di Verdi. Lo affiancano una presenza diciamo sempre molto gradita a Torino e a Ambroggio Maestri che dopo aver fatto il doge insieme a Mocca Negra fa la parte del cattivo Iago, Erika Grimaldi che è una cantante di questi luoghi e che è cresciuta molto al Teatro Regio dove ha fatto già moltissimo era anche nel Guglielmo Hotel dell'anno scorso. La nuova produzione porta la firma per le scene di Saverio Santo Liquido e di Elena Cicorella per i costumi e ha per il terzo anno consecutivo il sostegno fondamentale di Intesa San Paolo. Per addentrarci in tanta materia e anzi in cose diciamo anche più interessanti abbiamo chiamato Alberto Mattiori che è sicuramente una delle voci di maggior successo dei nostri incontri oltre che firma della stampa. Per cui lo ringrazio davvero e sono molto contento che sia lui a battezzare questa nuova stagione di incontri. Prego. Buonasera, questa è una conferenza del ciclo di conferenze inutili perché credo che l'Otello di Verdi lo conosciate abbastanza bene quindi non vi starò a raccontare il fatto che lui è un moro, la storia del fazzoletto, Casso, Iago, tutte cose che conoscete molto bene perché è un'opera sicuramente popolare anche se probabilmente è un'opera che tutti noi non abbiamo visto in teatro quanto vorremmo perché sulla diffusione dell'Otello pesa a torto o a ragione, secondo me soprattutto a torto, il problema del reperimento di un Otello. Come diceva l'Artusi, se fate il pollo a rosto per prima cosa prendete un pollo. Ecco, se fate l'Otello per prima cosa ci fa l'Otello. Questa è in parte una leggenda, in parte no, vedremo poi perché. Comunque sta di fatto che quest'opera, ripeto, molto popolare, molto conosciuta, molto amata, sulla quale non ripeto le solite cose perché le trovate su qualsiasi manuale di storia dell'opera o su qualsiasi biografia di Verdi, è però come tutti i miti, piena anche di miti, di leggende, di, come dire, non dico falsificazioni, ma di false idee che si sono incrostate lungamente nella coscienza collettiva. E visto che Verdi, come voi sapete, è un pezzo di noi, è, come dire, una cosa che noi abbiamo succhiato con latte materno, con latte materno abbiamo anche succhiato una serie di idee, luoghi comuni sull'Otello che non sempre sono veri. In questa chiacchierata cerchiamo di metterne a fuoco tre. Il primo riguarda il rapporto fra Verdi e Shakespeare e la fedeltà, in particolare nell'Otello di Verdi e Shakespeare. Il secondo riguarda il rapporto fra Verdi e il suo librettista, che in questo caso è Arrigo Boito, perché ci è sempre stato detto che finalmente nelle ultime due sue opere, che sono appunto Otello e Falstaff, le due opere sul libretto di Boito, Verdi finalmente trova un librettista alla sua altezza dopo decenni passati a mettere in musica versi tipo Sento l'orma dei passi spietati, e infine, terza cosa, come vi dicevo, cercheremo di indagare un po' la voce di Otello, almeno che tipo di voce di Otello aveva in testa Verdi quando lo scrisse. Naturalmente l'opera diventa un mito fin dalla prima sera, l'Otello debutta il 5 febbraio del 1887 alla Scala, ed è un evento non solo musicale, ma nazionale e internazionale, intanto perché c'è questo signore di 73 anni, che è una buona età oggi, ma era sicuramente molto di più una bella età all'epoca, che scrive una nuova opera, e soprattutto perché sono 16 anni che Verdi non scrive un'opera nuova. Il titolo precedente del catalogo verdiano è Aida, 1871. Poi certo, dopo Verdi, in questo lungo intervallo, scrive diverse cose, scrive intanto la messa da Requiem nel 74, voi lo sapete, nel primo anniversario della morte di Manzoni, che diventa subito un suo grande successo internazionale, perché lui comincia a dirigerla in giro per l'Europa, fa delle tournée concertistiche, quindi impone questo pezzo nuovo e abbastanza sconcertante in tutta Europa. Nel 1881 rimette a posto, con Boito, e questa è una tappa più importante della loro collaborazione, il Simu Boccanegra, nell'84 licenzia la versione cosiddetta di Milano del Don Carlo. Però sta di fatto che per 16 anni l'operista Ottimo Massimo non scrive più opere, quindi l'attesa è spasmodica. Le prove cominciano un mese prima, e Verdi stupisce tutti, perché arriva questo anziano signore e si rivela più ragazzino dei ragazzini. Ci sono moltissime testimonianze di Verdi che fa provare il suo otello. La più bella, lui fa anche naturalmente la regia, perché all'epoca, come sapete, il regista non esisteva, con corramarico di qualcuno, purtroppo invece oggi c'è, ma quello che farà l'otello non sarà un inversore, quindi non vi preoccupate. E l'aneddoto mille volte raccontato, bellissimo, ce ne sono tanti sull'otello, è lui che prova la morte di Otello, Otello e Francesco Tamagno, grande tenore, fra l'altro, torinese, e Verdi gli fa vedere come deve cadere dopo essersi ammazzato. E lo fa con tale realismo che questo precipitaterra e tutti sproccano moltissimo, perché credono che Verdi sia ammazzato. Altro aneddoto meraviglioso, c'è a un certo punto, in partitura, un passo per quattro violoncelli solisti, e a un certo punto, il secondo della fila, si vede comparire davanti Verdi, arrabbiatissimo, che gli dice lei, lei, suoni più forte, suoni più forte. Questo giovane violoncellista, che aveva vent'anni all'epoca, era un carattere piuttosto fumantino, e raccontò poi che in un primo momento aveva pensato di obiettare a Verdi che lo stesso Verdi aveva scritto piano e pianissimo quel passaggio in partitura. Poi, trovandosi di fronte a Verdi, rinunciò, si chiamava Arturo Toscanini, che peraltro fu un periodo disgraziatissimo per lui quello delle prove dell'otello, perché il cast della prima era composto da Francesco Tamagno, Othello, Victor Morel, che è un grande baritono francese, amatissimo da Verdi come Iago, ricordatevi che inizialmente Verdi voleva titolare l'opera Iago, non Othello, per cui è centrale la figura dell'alfiere, e dirigeva Franco Faccio, fraterno, amico di Boito, e direttore apprezzatissimo da Verdi, e come Desdemo nel punto debole della compagnia era una certa rumilda Pantaleoni che era l'amante di Faccio. Ora, ogni volta che Pantaleoni stonava, e stonava continuamente, Toscanini dava segni plateali di insofferenza, di fastidio, risatine battute, e ogni volta Faccio lo multava. Per cui praticamente non guadagnò nulla Toscanini suonando l'Antonotello perché tutto se ne andò in multe per le stecche della Pantaleoni. Alla fine della prima, come voi sapete, in Italia nell'Ottocento la serata di spettacolo non si concludeva con l'opera, all'opera seguiva un balletto, e perfino in occasione della prima di Othello la scala mise in scena, seppure in versione ridotta, un balletto. Toscanini si arrabbiò talmente tanto che suonò volutamente male e fu multato un'altra volta. L'opera ebbe un successo trionfale, l'attesa era spasmodica, figuratevi che mandò un inviato perfino il New York Times, oggi sarebbe normale, ma insomma siamo nel 1887, un inviato di qualità perché si trattava di Italo Campanini che fu il tenore di Parma, che fu il primo Loengrin italiano e in italiano. Attesa spasmodica, teatro pieno, si calcolò che a scala c'erano più di 4.000 persone, all'epoca non c'erano le norme di sicurezza post-statuto. E Verdi fu chiamato alla ribalta numerose volte dopo ogni atto e alla fine il pubblico staccò i cavalli della carrozza del maestro, lo accompagnò tirando a braccio la carrozza al Grand Hotel di Milan, dove poi morirà, che peraltro non è poi un'impresa ginnica perché l'albergo era ed è a 200 metri dalla scala. L'orchestra andò a fargli una serenata sotto il balcone e Tamagno si andò al balcone con Verdi e ricantò le esultate. Quindi grandissimo evento non solo veramente musicale, ma culturale. Tenete anche presente una cosa che spesso si dimentica, in quel momento Verdi è l'unico grande compositore italiano, perché la generazione immediatamente precedente, quella dei Ponchielli, dei Petrella, perché è età, non parliamone male, ma sicuramente non era a quel livello. E la generazione seguente non è ancora sbocciata. Il successo folgorante di Cavaliere Rusticana del 1890, quello dei Pagliacci del 92, Manolo Escocca, il primo grande successo di Puccini del 93. Per cui in questo momento Verdi è solo ed è il mito nazionale, senatore del regno, l'uomo che ha fatto l'Italia al pari di Cavour e di Vittorio Emanuele, di Ribaldi, ma sono sedici anni che non scrivo un'opera. Quindi grandissimo evento. A questo punto mi fermo, perché a differenza di quello che facciamo abitualmente, purtroppo mi invitano ogni anno qui a Reggio, non vi faccio vedere degli spettacoli, dei video, così evitiamo anche le consuete risse, perché proprio in funzione del fatto che vorrei poi terminare questa che è creata parlando dell'hotello, della vocalità di hotello, io vi proporrei eccezionalmente di sentire solo degli audio e di sentire in particolare negli stessi brani, negli stessi tre brani, tre hotelli in qualche modo di riferimento. Vi faccio notare che non sono scelte di mio sfizio personale, perché nessuno dei tre è il mio hotello del cuore, concesso nel dato che ci possa essere un hotello del cuore, perché sono quelle parti dove un interprete veramente soddisfacente alla fine non c'è. Però sono sicuramente i tre hotelli più celebri e celebrati. Il primo, naturalmente, è Francesco Tamagno, il secondo è Mario del Monaco, 427 volte hotello in scena, e il terzo è Placido Domingo, che è l'hotello più famoso vicino a noi. A me personalmente piace la Uri Volpi nel 1942, l'Opera di Roma, o Vickers, per ragioni complessamente diverse, però gli hotelli più celebri sono sicuramente questi tre. Allora, non faccio commenti sulle esecuzioni, ce li teniamo appunto alla fine per riannodare i nodi del discorso, i brani sono tre, sono le esultate, vabbè, che è brevissimo, l'Ore per sempre a Dio e il monologo finale, Niumi Tema, quando Hotello appunto si trafigge. Avvertenza, ovviamente Tamagno incide i primi due brani nel 1903, il terzo nel 1904, l'alta fedeltà, scusatemi, ancora non c'era, ovviamente è accompagnato dal solo pianoforte, ovviamente fra gli orari del pianista e gli orari suoi ci sono dei momenti in cui si stenta a riconoscere l'hotello di Verdi, peraltro ha cantato dal suo primo interpret, che aveva studiato la parte con Verdi e quindi capite che questi dischi che poi possiamo discutere se ci piacciono o no hanno un valore storico evidentemente incalcolabile. Tenete presente che l'hotello è insieme a Falstaff l'opera di Verdi in cui abbiamo documentazione di tutta la storia interpretativa. A parte appunto la Pantaleoni che non ha lasciato dischi ma probabilmente non è neanche un grande problema, sia Tamagno che Morel, quindi sia il primo otello che il primo Iago hanno lasciato delle incisioni. Tamagno era un po' vecchioso. Sì, ecco, poi bisogna anche precisare. No, Tamagno non era vecchissimo perché era del 50, quindi aveva 53 o 54 anni a seconda delle due incisioni, però aveva avuto un'operazione alle corde vocali e era, credo, semi-ritirato, ci faceva ancora qualche concerto, ma dalle scene si era ritirato. devo dire che appare ancora più stupifacente la freschezza di questa voce perché tenete presente che è un tenore pensionato che nei decenni aveva macinato decine di recite di otello. Prego. Poi li commentiamo alla fine dopo aver sentito gli altri due. Vi faccio soltanto notare due dettagli che comunque non vi saranno sfuggiti. Il primo è questo meraviglioso ciel, perché non si dice ciel ma ciel e però se pensate viene fuori una nota di più. Il secondo sono i tempi veramente iper dilatati, solenni. Io mi chiedo sempre ascoltando i cantanti della prima generazione del grammofono quanto durassero le opere in teatro perché hanno tutti dei tempi di una lentezza estrema. Comunque ne parleremo dopo. Adesso affrontiamo il primo mito da sfatare che è quello della fra duemila virgolette fedeltà di Verdi e Shakespeare nell'hotello. Allora voi sapete che Shakespeare è uno dei grandi modelli di Verdi. Il gran maestro del cuore umano lo chiama e francamente poi noi da posteri potremmo dire che sono i due grandi maestri del cuore umano perché credo che siano i due drammaturghi che più hanno raccontato l'uomo. Però se poi andate a vedere il catalogo verdiano scoprite che il principale fornitore di soggetti a Verdi non è affatto Shakespeare ma Schiller e il derby fra i due finisce 4 a 3. come in altra occasione con i tedeschi Schiller fornisce i soggetti della Giovanna d'Arco Masnadieri Luisa Miller e Don Carlo Shakespeare soltanto quelli del Macbeth dell'hotel e del Fastaf in realtà poi il punteggio potrebbe anche finire 5 a 4 perché come sapete un atto della forza del destino è tratto da Schiller dal Wallenstein e da Shakespeare sarebbe stata l'opera che Verdi avrebbe sempre voluto scrivere che non scrisse mai cioè il Relier che come voi sapete è una specie di fiume carsico che appare e scompare durante tutta la carriera di Verdi senza che mai quaglino le condizioni per scrivere finalmente questo Relier però l'idea che appunto è stata ormai come dire è entrata ormai nella coscienza collettiva di un Verdi che anche grazie al fatto che finalmente ha un grande librettista un grande letterato come Boito e non i soliti scrivi è finalmente fedele a Shakespeare e a Notello è assolutamente da bandire e questo guardate non lo dico io ma lo dice un critico abbastanza d'eccezione e ben poco conosciuto che è Giuseppe Tomasi di Ampedusa l'autore del Gattopardo come voi sapete Tomasi di Ampedusa che non insegnò mai anzi non fece mai nessun tipo di lavoro se non non remunerato come presidente della Croce Rossa di Palermo nel dopoguerra per un breve periodo mentre scriveva il libro che poi gli ha dato gli ha dato l'immortalità cioè il Gattopardo contemporaneamente teneva delle lezioni private per un ristretto gruppo di amici di discepoli di letterature straniere era un uomo coltissimo con una spaventosa cultura letteraria e poliglotta in particolare io ho sempre trovato assolutamente strepitosi e deliziosi da leggere le lezioni su Shakespeare di cui Tomasi Ampedusa era un profondissimo conoscitore Ampedusa dimostra molto chiaramente che l'otello di Verdi non è affatto l'otello di Shakespeare per una serie di ragioni beh intanto Shakespeare commette un errore fondamentale e cioè sbaglia la traduzione della novella di Cinzio da cui è tratto il soggetto della sua opera il moro in Cinzio non è un nero è un signor moro come ce ne sono un sacco in Lombardia moroni moretti mori non è affatto non è affatto un africano e invece Shakespeare promuò atto scena prima verso 66 il negro dalle turgi dell'abbra quindi vabbè quello è un errore ma poi dice Tomasi Ampedusa i critici notate l'eleganza e la raffinatezza della scrittura i critici letterari non sono quasi mai stati ufficiali e gli ufficiali di carriera non sono assolutamente mai critici letterari cosicché nessuno si è accorto che Iago è si capisce un cattivissimo tipo ma non il satana l'essere che ama il male per il male eccetera eccetera egli è semplicemente un ufficiale che è stato scavalcato nella promozione e a qual punto può portarsi la credine e l'invidia di un individuo opposto in questa congiuntura può facilmente essere appreso in un quarto d'ora passato a una mensa di battaglione dopo che è arrivata la gazzetta ufficiale che ricerca stampata l'infausta notizia in Otello come in qualsiasi altra opera di Shakespeare non viene nessun personaggio simbolo vi sono un certo numero di uomini e di donne che soffrono si dibattono e muoiono come tutti noi allora il punto non è tanto che Boito abbia eliminato il primo atto della tragedia di Shakespeare Boito segue molto fedelmente lo sviluppo dell'azione di Shakespeare ma riduce i cinque atti di Shakespeare ai quattro dell'opera eliminando il primo atto dove Shakespeare costruiva tutta la premessa della vicenda non solo ma Boito da buon intellettuale romantico per di più ex scapigliato quindi inno a satana eccetera e per di più con una poco nota ma molto forte passione per l'esoterismo comune a molti intellettuali devo dire del tardo ottocento cosa fa? mette in bocca a Iago quel monologo credo in un dio crudel che non è assolutamente shakespeariano perché appunto Iago non è un cattivo che fa il male perché è cattivo è un mediocre invidioso che fa il male per vendicarsi in una promozione negata o come dice sempre Tomasi Lampedusa il fatto è che Iago non è altro che un mediocre malfattore ne troviamo decine in tutte le amministrazioni statali parastatali e private intenti a scrivere lettere anonime ai superiori che non li hanno fatti promuovere tanta meschina è la sua malvagità che egli non prevede né ha l'intenzione di far scorrere sangue e di provocare quel grande guaio che sappiamo egli e lo dice voleva semplicemente yuntun cioè togliere l'armonia esistente fratelle desdemona si deve soltanto al temperamento di Otello alla sua estrema facilità allo squilibrio se la tragedia scoppia il personaggio tragico è Otello Iago è la spregevole miccia che fa deflagrare la mina e nota fra l'altro Tomasi di Lampedusa che Iago è un personaggio brillantissimo in Shakespeare in Shakespeare che come voi sapete piaceva a Verdi per la sua capacità straordinaria di mischiare l'alto e il basso il tragico e il comico quando Verdi scrive Rigoletto che è tratto da Victor Hugo come motiva la scelta di fare Rigoletto dice è un personaggio veramente shakesperiano perché è il buffone che però assolda Sicari si vuole vendicare che uccide e che uccide involontariamente la figlia è questo che piace a Verdi di Shakespeare infatti l'Oiago di Shakespeare è un personaggio brillantissimo che ha delle battute estremamente divertenti lungo tutto il corso della tragedia invece Boito serve a Verdi un Oiago che è il classico cattivo del melodramma che è cattivo perché è cattivo questo attenzione non è assolutamente un diminuzio dell'opera di Verdi per carità le opere in musica tratte da soggetti letterari hanno non solo il diritto ma direi il dovere di essere di diventare un'altra cosa il Barbieri di Sevilla di Rossini è tratto da Beaumarchais ma è completamente diverso nello spirito nella comicità e così via e sono capolavori entrambi anzi quello di Rossini è molto più capolavoro di quello di Beaumarchais allo stesso modo l'otello di Verdi non è affatto l'otello di Shakespeare ma questo non significa che sia una cosa almeno altrettanto grande e del resto c'era un precedente molto illustre che oggi abbiamo dimenticato perché è un'opera che abbiamo recuperato solo da poco tempo c'era un precedente molto illustre cioè il fatto che nel 1816 Rossini avesse scritto un'otello notate le prime rappresentazioni shakespeariane in Italia sono degli anni 40 dell'800 e comincia nel 1842 mi sembra proprio con un otello la fortuna di Shakespeare in prosa in Italia che poi è una sfortuna perché la prima recita dell'otello viene sommersa di sghignazzate e di fischi perché appunto per il pubblico abituato alla tragedia classica l'idea di questa commistione di alto e basso di comico e tragico è del tutto improponibile ecco vent'anni prima Rossini sul libretto di un meraviglioso signore che si chiama Francesco Beiro e Marchese di Salsa scrive un otello detto appunto l'otello in salsa dove dove addirittura l'antagonista di otello è Rodrigo e non Iago dove sparisce tutto eppure è un'opera assolutamente vitale come le riprese odierne hanno dimostrato semplicemente non c'entra nulla con Shakespeare bene a questo punto quindi sistemata la questione Shakespeare secondo termini di pargone Mario del Monaco Otello voi sapete divinizzato ai suoi tempi oggi molto invece criticato secondo me esagerando sono i soliti tre pezzi qui invece naturalmente abbiamo delle incisioni vere con un'orchestra sono però due incisioni diverse cioè le esultate d'ora per sempre a Dio sono prese dalla prima integrale discografica del Monaco quella del 54 con l'orchestra di Santa Cecilia diretta da Alberto Erede là il monologo finale non ho potuto esimermi perché è diretto in una maniera che ti ti strappa l'anima è l'integrale del 61 con i Wiener Philharmoniker diretti da Herbert von Karian comunque ve ne accorgete subito che cambia che cambia il manico prego ecco questa come vedete è un'altra ipotesi beh sì questo canta sì questa è un'altra ipotesi non del tutto convincente come vedremo ma lo vedremo poi intanto regoliamo l'altro mito dell'hotello cioè Verdi che per tutta la vita si è affidato a questi scrivacchini senza arte né parte né sintassi che finalmente trovi in Erigo Boito l'uomo che gli dà un libretto due libretti hotel e fast di grande qualità letteraria allora la storia dei rapporti fra Verdi e Boito è incredibilmente lunga e complessa quindi non ve la posso fare tutta perché se no stiamo qui fino a dopodomani è una storia molto complicata perché comincia quando Boito è giovanissimo a vent'anni e a Parigi con il suo amico Franco Faccio quindi l'amico fraterno quindi il librettista e il direttore dell'hotello che sarà venticinque anni dopo si presentano a Verdi che è a Parigi nel 1862 con una lettera di presentazione di una grande amica di Verdi la contessa Clarina Maffei Verdi ha bisogno casualmente di uno che gli scriva un testo perché eccezionalmente per una volta nella vita ha deciso di scrivere un pezzo di circostanza cioè a Londra fanno l'esposizione universale nel 1862 e gli chiedono una marcia quando scopre che l'hanno chiesto una marcia anche a Aubert perché doveva essere un pezzo che veniva chiesto a un compositore di una differente nazione c'è un compositore per ogni nazione scusate quando scopre che hanno chiesto una marcia anche a Aubert cambia idea scrive una cantata sarà poi l'inno delle nazioni che non è una delle pagine più irrinunciabili di Verdi ma comunque è di Verdi per il quale il giovanissimo Boito ventenne ma già molto promettente e talentuoso scrive il testo quindi l'inizio dei loro rapporti è ottimo purtroppo Boito è uno scapigliato quindi tutto Ascish Ascish Assenzio Vino Modì Culto di Baudelaire eccetera satanismo è molto critico sullo stato della musica in Italia è convinto che lui e i suoi amici che sono Emilio Praga che sono Franco Faccio e così via potranno cambiare questo stato di cose e purtroppo gli scappa detto l'anno seguente faccio debutta con la sua prima opera I profughi Fiamminghi e disgraziatamente al banchetto che segue come sempre la prima a Boito scappa letteralmente di bocca un ode all'arte italiana che ancrupi disgraziatamente finisce sui giornali questo sono quattro versi che segnano il destino di Boito per i successivi vent'anni ve li leggo se li trovo ben inteso non li sono memoria perché non è che siano proprio di squisitissima letteratura comunque i versi sono questi forse già nacque chi sovra l'altare rizzerà l'arte vera e conde puro su quell'altare bruttato come un muro di lupanare ora Verdi naturalmente l'ha presa per quella che era cioè un insulto personale perché e andò avanti per vent'anni ma con una costanza una continuità totale a citare questi versi e a riarrabbiarsi ogni volta che li citava Verdi guardate era un uomo a me qui non vorrei fare una digressione ma a me Verdi sembra di averlo conosciuto perché era il classico prima contadino poi agrario perché aveva fatto i soldi ma il più classico contadino agrario padano cociuto come una quercia cioè quando Verdi si metteva in testa una cosa nulla e nessuno poteva fargli cambiare idea durissimo durissimo con gli altri e con se stesso però anche capace di generosità meravigliose quando scopre che i suoi contadini devono farsi 30 km per essere ricoverati all'ospedale perché lui è proprio al confine di due province di Piacenza e di Parma e devono andare fino a Piacenza e farsi 30 km quindi muoiono per strada sui carri fa costruire un ospedale a spese sue tuttora peraltro felicemente in funzione a Villa Nova d'Arda è l'uomo che regala a Milano la casa di riposo per musicisti e la definisce la mia opera più bella tuttora in attività quindi però è un uomo durissimo e questa cosa dell'altare buttato come l'upanare non gli va giù per cui comincia una incredibile operazione diplomatica che viene condotta congiuntamente da Giulio Ricordi che è l'editore sia di Verdi che di Boito e dalla Giuseppina Streponi la pepina la seconda moglie di Verdi che è il suo alter ego e che è in realtà l'autrice della maggior parte delle lettere di Verdi per come dire far rincontrare le traiettorie apparentemente inconciliabili di questi due il primo incontro e questo è molto divertente succede il 19 novembre 1871 a Bologna alla stazione di Bologna perché casualmente entrambi vanno a sentire la stessa recita del Loengrin questo è il famoso Loengrin bolognese del 1871 che è la prima rappresentazione italiana di un'opera di Wagner immaginatevi il baccano propagandistico Wagner in quel momento è il musicista dell'avvenire di cui tutti parlano benché nessuno ne abbia mai sentito una nota Bologna dà a Wagner la cittadinanza onoraria Verdi va in teatro non si mostra al pubblico perché ha paura di manifestazioni o a favore o contrarie assiste all'opera nascosta in un palco e a Sant'Agata a casa sua in campagna c'è lo spartito sul quale segue il Loengrin e a un certo punto scrive di fianco questo è matto i due si incontrano ma nonostante le leggende poi che vengono diffuse ex post dopo che i due avevano cominciato a collaborare e cioè che Boito gli sarebbe dati incontro lodando moltissimo la Ida in realtà l'incontro è una impacciata conversazione di pochi minuti alla stazione ferroviaria di Bologna intorno alle 3 di notte dove entrambi si lamentano della difficoltà di dormire in treno e lì finisce si va avanti pazientemente questa tela diplomatica viene tessuta guardate che veramente avere a che fare con Verdi specie in questo periodo fra Ida Hotel in cui Verdi è molto critico nei confronti del mondo teatral italiano del mondo musical italiano e anche dell'Italia quindi veramente ogni parola va pesata perché quello prende cappello e ti mette sulla lista nera da cui poi non esci più finalmente i due cominciano cautamente a collaborare e Verdi da persona intelligente lo mette alla prova cioè gli affida il rifacimento del Simo Boccanegra che come voi sapete era celebre definizione verdiana il tavolo zoppo Boito si mette al lavoro e scrive per Verdi uno dei vertici dell'arte verdiana e anche come dire e anche del Verdi civile del Verdi patriota che è la scena del consiglio del Simo Boccanegra forse il vertice dell'arte verdiana quindi superato questo test i due cominciano a pensare a un'opera nuova che inizialmente dovrebbe essere un Nerone allora Boito aveva un problema e qui è molto divertente perché in seguito al loro primo incontro ricordate a Parigi nel 62 per quello inno delle Nazioni per Londra Verdi si sdebita del testo regalando a Boito un orologio che è una curiosa profezia perché Boito passerà tutta la vita a scrivere delle incompiute cioè l'unica opera che riesce a acquagliare è il famigerato Mephistofele dico famigerato perché è un'opera che ha sempre suscitato reazioni controverse sia a livello di pubblico che di critica ma poi c'è un Nero Leandro che non finisce mai e soprattutto c'è questo famoso Nerone che Boito continuerà a scrivere per circa 60 anni e andrà in scena postumo e incompiuto addirittura nel 1924 quindi inizialmente Boito gli offre il Nerone con un gesto di enorme disponibilità perché è l'opera della sua vita eppure lui è disposto a rinunciare a scrivere la musica purché Verdi musiche il suo libretto poi Verdi ci ripensa e seguono molte delicatissime discussioni finché una manovra brillante di Giulio Ricordi che una sera a cena con Verdi e la Strepponi comincia a parlare dell'hotello vede naturalmente che Verdi non dice nulla ma come dire si illumina e quindi Boito scrive non sapendo assolutamente se Verdi effettivamente lo musicherà deciderà di musicalo scrive il libretto d'hotello che viene scritto in condizioni di tragenda perché in gran parte del libretto d'hotello viene scritto mentre Boito ha un terribile ascesso a un dente e quindi c'è quest'ulteriore complicazione dei denti di Boito che rischiano di far naufragare l'hotello finalmente nel 1884 Verdi decide di comporre l'hotello cos'è però che io vorrei dirvi è vero che i libretti di l'hotello e di Falstaff hanno una qualità letteraria superiore io non direi eccelsa francamente ma non faccio il critico letterario superiore a quella di un Francesco Maria Piave o di un temistro che solera forse non di Salvador e Cammarano però è altrettanto vero che vedete non ha alcun senso e bisogna smetterla di dire che Verdi era un grande musicista che scriveva su testi idioti è esattamente il contrario Verdi è un grande drammaturgo che si esprime con la musica esattamente come io posso dire che Shakespeare sia un grande poeta ma è reduttivo cioè Shakespeare è un grande drammaturgo che si esprime in versi Verdi è un grande drammaturgo che si esprime in note e tutti i suoi libretti sono in realtà libretti di Verdi stesso come tutti i compositori romantici che sentono molto fortemente questa dicotomia fra testo e musica fra nota e parola alcuni Berlioz Mussorghi Wagner la risolvono scrivendo in prima persona i loro libretti altri come Verdi facendosi di scrivere da qualcuno sul quale hanno un controllo ferreo se voi leggete la corrispondenza di Verdi con Piave è impressionante perché Verdi gli ordina allora io qui voglio quattro settenari dove Pinco dice le tali cose e tu fammeli così poi naturalmente ci sono varie sfumature perché Verdi col povero Piave come dire usa dei toni che oggi non si userebbero con la colfa anche perché si correbbe il rischio dei rischi pesantissimi ma voglio dire veramente lo comanda Bacchetta con altri più prestigiosi per esempio Cammarano che è già un librettista aureolato di gloria ed esce da una grande famiglia di intellettuali napoletani è più rispettoso ma in generale i libretti non ha senso dire che le opere di Verdi sono belle su dei libretti brutti perché i libretti delle opere di Verdi li ha scritti Verdi sia pure non in prima persona allora cosa succede con Boito Boito è di tutti i librettisti di Verdi quello che Verdi in qualche modo rispetta di più cioè quantomeno gli chiede il suo parere ma i libretti dell'Otello e del Fastaf sono libretti di Verdi dove ogni tanto accetta per la prima volta nella sua vita di mettere in discussione le sue idee un esempio classico è proprio il finale del terzato di Otello quando Otello come dire inveisce contro Desdemona a terra nel libido fango Verdi lì aveva delle difficoltà musicali a pensare alla scena e aveva proposto a Boito di far tornare in scena i turchi cioè i turchi sconfitti nel promato d'Otello hanno un ritorno offensivo Otello parte per sconfiggerli grande finale con cannonate cori eccetera Boito le cui lettere sono sempre veramente rispettosissime perché è una parola di troppo e questo non scrive più niente gli spiega ma con una lettera fluviale che non vi sto a leggere perché sennò stanno qui fino a domani per quale ragione secondo lui ma se il maestro vuole assolutamente gli scrive tutto quello che vuole secondo lui non è una buona idea dice una cosa del genere mi farebbe l'effetto di un vetro rotto in una stanza dove due persone stanno morendo di asfisia è una bellissima similitudine per pensare al rapporto fra Hotel e Desdemon in questo momento e Verdi gli dà ragione ecco la differenza è tutta qui nel senso che per la prima volta Verdi discute le sue idee drammaturgiche con qualcuno e in questo senso la coppia funziona benissimo funziona benissimo anche perché Boito ha la grandezza d'animo scusate non è esagerato questo termine di mettersi completamente al servizio di Verdi che poi peraltro è l'unico modo con cui si potevano avere dei rapporti con Verdi quindi sfattiamo questo mito non è vero che Verdi finalmente incontra il librettista che gli dà i libretti che lui vuole perché i libretti Verdi si li ha sempre fatti da solo è la prima volta che Verdi incontra un librettista col quale si ferma a discutere ed è già un grosso passo avanti per lui bene a questo punto ci sentiamo il terzo Otello nei soliti pezzi che è Placido Domingo voi sapete Domingo debutta Otello nel 75 all'età ufficiale di 34 anni perché voi sapete che l'anno di nascita di Domingo è il grande mistero di Fatima dell'opera nessuno sa quanti anni abbia questo uomo e comunque ufficialmente nel 75 debutta e poi l'ha cantato veramente anche lui in ogni dove comprese produzioni leggendarie come quella del 76 alla scala con Kleiber ecco lo sentiamo negli stessi tre brani sono due incisioni anche qui diverse ma appena un anno di distanza cioè Esultate ora per sempre addio è un'incisione in studio del 92 diretta da Myung Wung Chung con i complessi dell'opera Bastille di Parigi il New Me Tema è dell'anno seguente del 93 dal vivo con quelli del Covent Garden diretti da Sir Georg Scholti comunque è un anno di differenza non cambia molto allora è chiaro che la storia interpretativa di Otello non si limita ovviamente a questi tre nomi ce ne sono tantissimi altri che andrebbero fatti no so Merli Lauri Volpi Cossutta anche stranieri Slezak Vickers che è stato uno strepitoso Otello anche se certo non con la voce che un appassionato italiano si aspetta da Otello però ecco il mito dell'opera ineseguibile dell'Otello che non si può fare perché non c'è Otello della parte tenorile più difficile mai scritta dell'opera impossibile perché nasce come nasce cosa aveva Verdi nella sua testa quando pensava alla voce di Otello allora intanto cominciamo col dire che a differenza di quello che vi raccontano i vociologi della Domenica non esiste un modo giusto o sbagliato di cantare ogni epoca interpreta il passato secondo i suoi canoni voi sapete che gran parte del repertorio lirico che noi vediamo rappresentato è costituito da titoli del passato e noi in realtà cerchiamo in questo passato il nostro presente cioè leggiamo il passato con la nostra sensibilità noi non leggiamo Dante come un uomo del 300 e nemmeno come un uomo del 700 che peraltro non lo leggeva Dante ma lo leggiamo come un uomo di oggi cerchiamo noi stessi là dentro per cui è chiaro che ogni epoca legge e interpreta Otello secondo la sua sensibilità e allora Tamagno Verdi scrive Otello per Tamagno questo è un dato incontrovertibile dal quale bisogna partire se lo sceglie gli scrive la parte del moro che tenore è Tamagno beh l'avete ascoltato con tutti i limiti del caso legati all'incisione legati al fatto che è un Tamagno anziano legati al fatto che lo stile è molto diverso da quello a cui siamo abituati oggi però sicuramente non è la voce che siamo abituati a sentire di Otello noi Otello lo associamo alla voce scura baritonaleggiante grossa generalmente non squillante invece cosa sentiamo con Tamagno sentiamo una voce intanto inaspettatamente elastica per un cantante con quella carriera e con quel repertorio sentiamo una voce molto chiara di timbro sentiamo una voce estremamente squillante sentiamo cioè un reperto di un tipo tenorile che è scomparso fatalmente col passare del tempo perché le epoche successive non si sono più identificate in quel modello che è il tenore come dire eroico del secondo ottocento cioè le origini del modello Tamagno sono da ricercare in quella rivoluzione romantica del canto che ha una data ben precisa il 1836 quando all'Opera di Parigi arriva Gilbert Louis Dupré per cantare la parte di Arnoldo del Guglielmo e per la prima volta la canta con gli acuti di petto la parte era stata scritta da Rossini per un tenore che cantava gli acuti in falsettone Rossini odiava gli acuti di petto come giustamente gli uomini della sua generazione li considerava e chiamava le urla del cappone sgozzato però al pubblico piacevano perché il pubblico romantico voleva sentire quei suoni lì da lì nasce una tradizione di tenori chiari squillantissimi molto molto a loro agio su tessiture acute guardate Otello che noi siamo tutti abituati a considerare una parte del tenore baritone leggente è una delle tessiture tenorini più acute scritte da Verdi e una delle pochissime dove Verdi scrive il Do nota che Verdi è molto parco nello scrivere per i tenori non ce l'ha Manrico ma ce l'ha Otello allora nella testa di Verdi c'era probabilmente l'idea di un Otello molto per nulla verista per nulla esagitato per nulla negro dalle barbara tumide sempre sull'uolo di una crisi di nervi c'è un Otello molto molto cavalier antico passatemi l'espressione molto araldico molto chiaro squillante argentino una tromba l'esultato del resto è un ingresso l'ingresso di Otello è fatto per mettere in risalto queste qualità e del resto un esultato così è difficilmente replicabile come quello di un Tamagno pur vecchio poi un altro discorso all'interpretazione la delusione di Tamagno dei dischi di Tamagno non ci viene dalla voce ci viene dal fatto che per essere uno che ha studiato quella parte lì con Verdi ci sembra stranamente assettico cioè proprio è pochissimo coinvolto e quindi coinvolgente dal punto di vista interpretativo infatti non a caso esiste una lettera poco nota di Verdi dei primi anni 90 dell'ottocento adesso mi sembra nel 94 non sono sicuro dove puntigliosamente mette a confronto due interpretazioni di Otello una è quella di Tamagno che è l'otello della sua generazione perché è il suo otello e lo mette a confronto con un altro otello che si chiama Giovanni Battista dei Negri molto meno famoso molto meno ciclopico cataclismatico tromba molto meno trombettiere ma dice Verdi molto più molto più intimista molto più scavato molto più interpretato e quindi inferiore a Tamagno nelle esultate nell'ora per sempre a Dio nettamente superiore per esempio nella scena finale però questa è una questione di interpretazione i dischi abbiamo i dischi anche di De Negri però li incise dopo un'operazione del corde vocale quindi non sono esattamente il massimo dello splendore tenorile non ve li hanno anche fatti sentire De Negri fu il primo a Torino esatto sì era quello che faceva la parte quando Tamagno era disponibile peraltro è abbastanza paradossale che Tamagno torinese non canti la prima torinese dell'hotel poi passano gli anni passano gli anni e il modello hotello perdendosi questo riferimento che si perde perché l'epoca supera questo modello tenorile l'epoca è quella di Turiddu di Cavaradossi di questi tenori amorosi scuri ecco gli anni diciamo dopo la prima guerra mondiale vedono l'affermazione di un hotello molto più scuro molto più 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 baritonaleggiante molto meno facile in acuto e diciamo anche leggermente sopra le righe fin di arrivare al modello del monaco che è un grandotello attenzione non perché sia un grandotello in termini assoluti ma perché è l'hotello della sua epoca del monaco è l'hotello degli anni 50 è l'hotello del neorealismo è l'hotello di quella cultura lì che recupera un certo tipo di verismo e quindi singhiozzi e quindi rantoli e quindi questa voce sempre compressa poi chiaro del monaco era un fenomeno vocale perché non si è mai capito come potesse con quella tecnica lì fare quei suoni lì era chiaramente elettrizzante ma voi lo vedete anche per esempio da come si presentava in scena cioè veramente del monaco con varie sfumature a seconda di dove facesse l'hotello perché se lo faceva a Vienna non era come se lo facessero a Cannuccia ma insomma comunque è il trionfo del bestione no nerissimo con le labrone rosse questi costumi apparecentissimi sempre molto sopra le righe questo è il modello tenorile che regge fino agli anni sessanta diciamo grosso modo e poi arriva Domingo arriva Domingo che ti fa invece un hotello molto diverso Domingo non ha sicuramente la strapotenza vocale del monaco non ha sicuramente i suoi acuti ha un timbro molto bello ma prezioso amoroso baritonaleggiante però devo dire fa un hotello avete sentito obiettivamente nelle esultate dell'ora per sempre perde e perde molto rispetto ai suoi predecessori dei treni un mitema però quello francamente più coinvolgente e commovente è proprio quello di Domingo perché è castigato perché non esagera perché perché è moderno è moderno per come noi intendiamo oggi la nostra modernità e quindi qual è il problema di hotello il problema di hotello è che noi possiamo recuperare oggi un hotello per noi coinvolgente se ripartiamo dal modello tenorile che Verde aveva in mente che non è sicuramente quello di un baritenore perennemente esagitato ma piuttosto di un cantante che viene da un romanticismo ancora araldico ancora belcantista ancora capace di morbidezze di acuti di squilli ma ovviamente riletto con la nostra sensibilità e allora qui mi piace molto l'idea di chiamare Cunde allora non vorrei che usciste dicendo che io ho detto che Cunde è meglio di Tamagno del Monaco di Domingo perché non è vero io però ho assistito al debutto di Cunde che è stato due o tre anni fa alla Fenice debutto naturalmente sapete un tenore che debutta a Otello raramente la prima sera da proprio il meglio di sé perché è un tantinello preoccupato però poi sono tornato diligentemente a sentire anche la replica l'idea di Cunde è molto interessante perché perché questo è un tenore che nasce su schemi antichi infatti è l'unico tenore della storia ad avere il repertorio contemporaneamente l'Otello di Verdi è quello di Rossini l'Otello di Rossini è lui sì un baritenore neoclassico che si esprime con un canto estremamente fiorito e con improvvisa e fiondata l'acuto in realtà non è l'unico perché Roberto Stagno cioè il primo tour idù nell'Ottocento cantò entrambe le parti ma le cantò a diversi decenni di distanza Cunde è l'unico otello che fa i due otelli nella stessa stagione cioè quest'anno a Torino l'Otello di Verdi ha alla scala quello di Rossini ecco io trovo molto interessante questo modello perché a parte il fatto che Cunde sia bravo non sia bravo abbia 60 anni non abbia 60 anni significa recuperare da un lato una dimensione storica di questa parte che non è l'energumelo con la bava per elementi alla bocca abbiamo visto degli otelli francamente scimmieschi e razzisti diciamola tutta e razzisti perché era il buon selvaggio il negrone che impazzisce perché lei lo tradisce no questo è intollerabile e non è né in Shakespeare né in Verdi ma recuperare questa dimensione come dire storica e un po' arcaica da parte di Otello tanto che paradossalmente guardate paradossalmente noi abbiamo sempre letto da un punto di vista musicologico l'Otello come l'opera di un Verdi che arriva all'opera che per fare fino si può chiamare Durk Componiert un'opera slegata diciamo dalle convenzioni formali che avevano retto l'opera italiana per secoli il recitativo distinto dall'aria eccetera l'Otello è sicuramente un flusso musicale ininterrotto dove se esistono dei resti delle vecchie forme musicali sono citazioni sono idee di forme musicali tradizionali però è anche vero che dentro questa struttura musicale estremamente moderna ed estremamente nel suo tempo da qui le accuse di Wagnerismo Wagner si è convertito al Wagnerismo eccetera tutte sciocchezze ovviamente ma dentro questa struttura musicale estremamente moderna Verdi piazza una scrittura vocale che invece in molti momenti è stranamente antica o meglio dove coesistono momenti assolutamente moderni pensate a questo finale questo finale è sostanzialmente un recitativo è una scena per usare un termine tecnico italiano del melodrama italiano dell'ottocento dove veramente il tenore canta morendo pochissime frasi su una melodia spiegata e sono quelle del duetto d'amore e sono quelle del duetto d'amore finale promatto dove affondano tutti gli otelli gorilloni cui siamo abituati perché dovendo cantare piano su una tessitura scomoda acuta chiaramente se tu pompi la voce la carichi per fare quel bel colore scuro che deve essere il colore vocale di otello come la sua pelle non riesce a cantare piano infatti abbiamo degli otelli che corteggiano desdemona come se stessero guidando le esercitazioni sulla piazza d'armi quindi è veramente difficile ecco in questo senso devo dire delle tre leggende delle tre mitologie dell'opera mito forse quella della ineseguibilità di otello è la meno mitica nel senso che effettivamente voi non troverete mai un otello pienamente soddisfacente allora abbiamo sentito il tamagno benissimo nelle parti diciamo ottocentesche affonda vistosamente nel finale che sembra che non capisca cosa sta cantando del monaco elettrizzante nei momenti declamatori ma sicuramente più in difficoltà nel canto legato e legato a schemi esplessivi un po' arcaici un po' vecchiotti per il nostro gusto domingo sicuramente moderno come gusto ma sicuramente altrettanto non con la vocalità vetero-ottocentesca per la quale Verdi aveva pensato la parte ripeto non credo che Kun credo che Kun abbia scritto una pagina importante nella storia interpretativa di Otello e comunque molto interessante cioè io preferisco mille volte sentire un tenore che viene da Rossini che viene da Donizzetti che viene da questi autori fare Otello piuttosto che il solito Becero anche perché i Beceri non ci sono più ecco ma quindi è paradossale perché non riusciamo più come dire non quaglia mai questa benedetta parte di Otello quello che recuperi da una parte lo perdi dall'altra fatalmente ecco io mi auguro che Kun vi piaccia a me è piaciuto molto un tenore devo dire benché anzi due tenori se devo scegliere i miei ma poi vi lascio andare perché sta diventando lunga uno è Giacomo Lauri Volpi che frequentò poco la parte di Otello ma nel 1942 al Teatro Reale dell'Opera di Roma fece un Otello di cui restano dei frammenti molto interessanti perché aveva appunto quel tipo di vocalità fra virgolette tamagnesca estremamente chiara acuta sfogata e l'altro è lo ripeto John Vickers grande tenore canadese vagneriano britteniano quindi con una voce che fa venire l'orticaria a qualsiasi loggionista italiano giustamente perché è una voce brutta ma di interprete di sensibilità e di finezza straordinarie detto questo andate all'Otello e se posso darvi un consiglio provate nella stessa stagione a sentirvi cunde anche nell'Otello di Rossini così dovrete più chiaro secondo me i termini da questione grazie grazie grazie